Tornano a crescere gli infortuni sul lavoro. Nei primi sei mesi dell'anno in Italia 380.000 denunce, 5.000 in più rispetto al primo semestre 2016. E nel medesimo periodo quelli mortali sono passati da 562 a 591. Oggi è l'occasione per riflettere su questa piaga con la 67esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che in regione ha visto eventi a Udine, Pordenone e Gorizia. E l'ANMI, l'associazione nazionale mutilata e invalida sul lavoro, denuncia. Molte volte non si rispettano le norme, infatti l'INAIL a livello nazionale ha notato nei suoi controlli di 20.000 l'87% di irregolarità. In Friuli Venezia Giulia lo scorso anno si sono registrate 16.473 denunce di infortunio, di cui 22 costate la vita al lavoratore. E anche qui i numeri sono in aumento, lamenti il presidente regionale dell'ANMI, Romeo Mattioli. Come invertire la rotta? Dobbiamo intensificare, moltiplicare la prevenzione e la cultura della sicurezza, cominciando dalle scuole. Prevenzione e dunque controlli, perché il lavoro sia gioia e non lutto.